L'esperimento Universo 25 è stato uno degli esperimenti più terrificanti mai fatti. Negli anni 70 uno scienziato di nome John Colown, ve lo scrivo sopra, ha dimostrato che la nostra società è destinata al collasso. Tutto cominciò così, posizionò 8 topi dentro una gabbia, alta circa 1,3 e larga 2,7, lunga 2,7. I topi sono completamente protetti e possono tranquillamente mangiare e bere. Non ci sono predatori, non ci sono difficoltà, il cibo Eina era in abbondanza, c'era cibo in abbondanza lì dentro. In più sarebbero stati completamente protetti da qualunque tipo di malattia o ferita esterna visibile. Infatti i ricercatori erano pronti in qualunque momento a curare quegli animali, nel caso appunto fosse successo qualcosa. In teoria questa gabbia chiamata Universo 25 avrebbe potuto ospitare 3.800 topi in totale. Tutto all'inizio va benissimo, i topi mangiano, si divertono, si riproducono, ma si riproducono veramente, ma veramente tanto. Infatti dopo un anno e mezzo arrivano 2.200 esemplari. E proprio qui cominciano i problemi. Erano talmente tanti che superavano i ruoli disponibili. Insomma, c'erano davvero troppi topi e poche cose da fare. Perciò alcuni maschi cominciarono ad attaccare le femmine e a uccidere anche i neonati. Le femmine per proteggersi andarono nelle zone più alte della gabbia, ma proprio per proteggersi non riuscirono a proteggere la loro prole anche. Alcuni topi erano diventati pansessuali, cioè cercavano di accoppiarsi con chiunque. Gruppi di maschi e femmine erano fin troppo sproporzionati. A volte c'era un maschio per 10 femmine, altre volte 20 maschi per 5 femmine, cose simili. In alcune zone dell'universo 25 il tasso di mortalità era arrivato al 96%. Ci furono perfino episodi di cannibalismo nonostante il cibo fosse stato disponibile tutto il tempo. Infine l'esperimento terminò 5 anni più tardi, con l'ultimo topo che perse la vita. La società perfetta in cui non c'era bisogno di fare niente se non di mangiare e bere era collassata nel giro di 5 anni, forse proprio perché non c'era più bisogno di fare niente. La conclusione di John fu alquanto inquietante e molti ancora oggi ne discutono. Una volta che il numero di individui in grado di ricoprire un ruolo sociale supera ampiamente il numero di ruoli disponibili, la conseguenza è il collasso.